Una soluzione urgente e condivisa. È l'appello di Federanziani al Ministro della Salute Beatrice Lorenzin e al Direttore Generale dell'AIFA Luca Pani per la tutela delle persone anziane con diabete. Secondo quanto denunciato dalla Società Italiana Diabetici e dall'Associazione Medici Diabetologi, le restrizioni sui nuovi farmaci in corso di discussione da parte dell'Agenzia del Farmaco impedirebbero a moltissime persone, in particolare ai soggetti a rischio di crisi ipoglicemiche, di poter godere di trattamenti innovativi per motivi non di natura clinica ma economica. Secondo Federanziani questa decisione finirebbe per ledere il diritto, sancito dall'articolo 32 della Costituzione, a godere delle migliori cure disponibili. La Federazione ha sempre evidenziato, anche attraverso la Corte di Giustizia Popolare per il diritto alla salute, che ogni scelta debba tutelare il diritto alla migliore cura possibile per i cittadini, soprattutto se di natura regolatoria. Qualora il tavolo non fosse istituito, Federanziani sarà costretta a tutelare i diritti dei cittadini nelle opportune sedi.